Quando un rifiuto diventa una risorsa creativa, un problema può trasformarsi in un'opportunità. E' questo lo spirito che anima il progetto innovativo e sperimentale presentato questa mattina in conferenza stampa dal Comune di Pescara e da Attiva, e che fa della plastica non più un rifiuto, ma una materia prima da trasformare in oggetti creativi e di arredo urbano attraverso l'utilizzo di stampanti 3D e il coinvolgimento delle scuole. Il nuovo percorso didattico di economia circolare coinvolgerà gli studenti del Liceo Scientifico da Vinci di Pescara, con l'obiettivo di fare del capoluogo adriatico una città in cui far partire un progetto pilota per la dotazione di arredi urbani interamente creati grazie al riciclo artistico della plastica. Paola Marcheggiani, Assessore del Comune di Pescara all'Igiene Urbana. Questo è un progetto importante perché noi abbiamo fatto una campagna a tutto tondo, quindi ci siamo rivolti prima alle scuole medie. Sono stati formati gli insegnanti, i ragazzi hanno accolto questo discorso della cultura del rifiuto come qualcosa di positivo, sono stati creati dei mercatini del riuso, dei gazebo per il baratto e poi abbiamo pensato che era importante anche rivolgersi a generazioni un po' più adulte, quindi nella scuola superiore, il Liceo Scientifico da Vinci ha accettato questa nostra iniziativa e per cui saranno i ragazzi interessati attori di un nuovo modo di pensare il riciclo della plastica tramite una stampante 3D. Francesco Puzzello della società 3D for Grouts, ideatore del progetto. Ma cosa si può fare con la plastica attraverso le stampanti 3D? La prima cosa che si può fare è quella di far capire ai ragazzi che ciò che per gli altri è considerato un rifiuto fondamentalmente può essere una risorsa. Alcune plastiche possono essere riutilizzate e possono diventare materia prima o seconda ed essere utilizzate appunto sotto forma di filamento, granuli, per realizzare qualcosa di utile per le comunità. Si potrebbe raccogliere rifiuti sulla spiaggia e utilizzare alcune plastiche, trasformarle in filamento, per realizzare qualcosa che rimanga alla comunità, quindi un esempio pratico che potrebbe... Anche a redi urbani. Questo è un primo passo verso quel tipo di progetto. Partiamo con Pescara e vediamo insomma quali saranno gli sviluppi futuri.